... la batteria della GoPro ti dura tutta la gara 3,2,1 la testore si va e questa festa e questa città è straordinaria l'ultima dello sport alle ragazzi buona sentimento buona sentimento buona sentimento buona sentimento buona sentimento buona sentimento in gara la bamba volante con la parente questa è campionessa del mondo di gran fondo porto a ragazzi bocca al lupo a tutti primo obiettivo di venire sicurezza buona sentimento 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 come da inspe among tentazione nu off instead Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.